Nel corso di formazione dedicato alla peer-to-peer, innanzitutto vedremo cos'è questa metodologia pari a pari, da pari a pari. Si tratta naturalmente di una metodologia che implica che un pari formi un suo pari, naturalmente uno studente forma un altro studente. In questo modo accade che la formazione viene veicolata in qualche modo orizzontale, non verticale come tradizionalmente avviene nello schema docente-alunno. È una modalità collaborativa, evidentemente, ancora molto poco usata nella scuola italiana o usata occasionalmente, specie nei progetti dedicati all'affettività, per esempio alla prevenzione. Come usare la peer-to-peer in classe? Innanzitutto occorre selezionare uno o più argomenti, in quanto inizialmente è più facile un approccio alla peer-to-peer legato a uno specifico modulo del programma. Quindi si seleziona in generale uno o più argomenti, si divide la classe o in gruppi o si fa in modo che la classe divida se stessa in autonomia in gruppi e si assegnano i vari compiti e in particolar modo le scadenze. e poi si stabiliscono, e questo è l'aspetto più importante, dei momenti per la condivisione di quanto è stato prodotto. Naturalmente fra la seconda e la terza fase ci sono senz'altro, ci potranno essere senz'altro, dei momenti di raccordo in cui il docente valuta il processo che mano a mano i ragazzi portano avanti. Quali sono i vantaggi della educazione tra pari? Innanzitutto quello che si nota in maniera più o meno marcata ma essenzialmente diffusa è la responsabilizzazione degli studenti, i quali in questa modalità si sentono investiti di una responsabilità maggiore rispetto a quella di una tradizionale attività didattica. Poi un altro aspetto assolutamente importante e anche piuttosto complesso è la valutazione tra pari, una valutazione vale a dire orizzontale che peraltro non esclude anche processi di autovalutazione, ancora molto spesso assenti dalla nostra scuola. Un altro vantaggio è che la peer-to-peer education favorisce assolutamente le dinamiche e il lavoro di gruppo in quanto nella stragrande maggioranza dei casi in questa modalità si lavora per piccoli o per grandi gruppi ma in ogni caso difficilmente si lavora in singolo per quanto è possibile anche il lavoro in singolo. Nel corso dedicato alla peer-to-peer impareremo alcuni aspetti, per esempio vedremo le principali strategie perché peer-to-peer è un insieme molto ampio di possibili strategie, poi vedremo anche gli strumenti online per la condivisione. La peer-to-peer è una metodologia che non richiede necessariamente la didattica 2.0, richiede molta disponibilità da parte del docente, responsabilità e disponibilità da parte degli alunni ma non richiede diversamente da altre tipologie qui proposte l'apporto delle nuove tecnologie. Noi l'abbineremo eventualmente alle nuove tecnologie e in tal caso useremo alcuni strumenti online per la condivisione dei contenuti proposti. Poi, anche questo è un aspetto interessante, useremo le cosiddette rubriche per la valutazione tra pari. Le rubriche sono qualcosa di più avanzato delle normali griglie di valutazione e servono naturalmente per valutare un processo o un prodotto, in nostro caso sarà molto più spesso frequente la valutazione di un progetto o un processo. Cosa è necessario per la peer-to-peer? Un pc naturalmente è di una certa utilità, anche se ripeto è una delle metodologie non necessariamente legate alla didattica 2.0. Una connessione ad internet, se useremo degli strumenti per la condivisione dei nostri documenti. E come strumenti online vedremo Prezi, che è un sito che offre la possibilità di presentazioni multimediali, in qualche modo tridimensionali rispetto al normale andamento di un PowerPoint che è semplicemente orizzontale. Vedremo anche altri strumenti decisamente più semplici e accessibili di Prezi, ma altrettanto accattivanti come Maze e IQdeck, che sono semplicemente dei siti web che consentono delle presentazioni online, che quindi restano online. Poi anche altri strumenti come Padlet, che è un altro sito, e Bubble House, sono due siti nei quali è possibile la collaborazione online. Vedremo essenzialmente cosa sono i social network di internet. Innanzitutto sono dei siti web, come Facebook, per esempio Twitter, che permettono la condivisione non solo dei profili, ma anche dei materiali, materiali didattici. Consentono quindi anche degli approcci diversi al sapere, perché recuperano tramite i link a risorse esterne, per esempio risorse presenti su internet, tutta una serie di saperi informali o che comunque non risiedono strettamente nei libri di testo in adozione. Quindi consentono di fare ordine in quell'insieme di risorse, a volte molto utili, che stanno al di fuori dei materiali ufficiali. E poi sono anche un modo per ordinare tutta quella massa di informazioni che spesso diamo ai ragazzi sotto forma di documenti PDF o siti web e che rischiano, dopo qualche mese di lavoro, di essere piuttosto caotici e disordinati e non risiedere in nessuno spazio preciso, ma talora in una pendrive, talora nella mail, talora in un computer della scuola e quindi in modo piuttosto disordinato. Social network in questo senso danno ordine a questa massa, questo flusso di informazioni e materiali che ormai più o meno quotidianamente usiamo con i nostri studenti. Come usare i social didattici a scuola? Innanzitutto occorre un normalissimo account, quindi un'iscrizione a questi social che sono pressoché tutti gratuiti, occorre poi avviare una profilatura dei propri studenti e oltre che del proprio account, poi si inizia subito a condividere oltre che i profili, quello che Facebook chiama amicizia, ma soprattutto dei materiali, materiali didattici, materiali che normalmente usiamo con i ragazzi. questi consentono quindi una comunicazione orizzontale e verticale, orizzontale si intende a dire tra pari, quindi collega-collega, e anche verticale dove si intende naturalmente una comunicazione tra alunno e insegnante. Consentono anche i social network la cosiddetta cura dei contenuti, quella che il mondo anglosassone chiama Content Curation, che è un ambito estremamente importante della non solo didattica 2.0 ma oggi anche di alcuni aspetti della rete e consiste appunto in quelle pratiche grazie alle quali noi ordiniamo, quindi non produciamo ma ordiniamo, i contenuti che troviamo in rete che in molti casi rischiano di essere piuttosto disordinati e rischiano di appartenere qua e là a tanti siti e non essere mai in qualche modo razionalizzati all'interno di uno spazio. Quindi i social network didattici aprono anche questa prospettiva della cura dei contenuti. I vantaggi sono numerosi, per esempio i social network per loro natura tendono a essere maggiormente seguiti dai ragazzi perché sono piuttosto abituati all'uso di social network naturalmente personali e non didattici. Hanno il merito appunto di ordinare i nostri materiali e quindi anche documentare cronologicamente la nostra attività. Consentono una comunicazione più efficace con le nuove generazioni, non quindi una comunicazione in assoluto più efficace ma più efficace con i ragazzi che oggi possono avere 12, 15, fino a 18 anni, che sono per l'appunto abituati a usare questi strumenti per la loro comunicazione. E poi un vantaggio non secondario ci consentono di tenere separato il mondo professionale da quello privato e in tal modo eviteremo di usare per esempio account Twitter, Facebook o altro che sono nostri personali dove in qualche modo ci sono dati, informazioni, fotografie, video della nostra vita privata che non ci interessa condividere in un ambito professionale. Cosa impareremo in questo corso? Innanzitutto usare questi siti, questi social network per essenzialmente la condivisione. Impareremo anche però a reperire e riusare i materiali presenti online perché un obiettivo è anche proprio quello di fare ordine tramite questi social a quella massa di informazioni che noi quotidianamente maneggiamo e condividiamo con gli studenti. Questi social ci consentiranno anche di comunicare in modo più rapido, piuttosto rapido, tra noi e tra colleghi e magari insegnanti e alunni. Vediamo quindi anche cosa è necessario. È necessaria naturalmente una connessione a internet, in questo caso non è possibile farne a meno. Un browser che sia di un pc, di uno smartphone o di un tablet è indifferente anche se indubbiamente l'uso di un pc rende tutto più agevole. L'uso di uno smartphone o di un tablet rende tutto più rapido solo in alcuni casi. Nell'ambito delle notifiche per esempio ma nella produzione dei contenuti ancora possiamo dire che smartphone e tablet sono ancora piuttosto faraginosi nell'uso di costruzioni di contenuti piuttosto complessi. E poi naturalmente un account che possiamo creare insieme o possiamo aver già creato. Gli strumenti online che vedremo principalmente sono Edmodo che è forse uno dei più noti social network usati in ambito didattico. Poi siti come scoop.it che serve proprio per la cura dei contenuti. Pinterest che è invece un social network tradizionale soprattutto utilizzato per le immagini ma che può avere con qualche accortezza anche una importante valenza didattica. Peraltro ha il vantaggio di essere molto noto anche presso gli adolescenti. Poi vedremo anche altri tool come per esempio Medium che nasce come costola di Twitter. È un modo di fare blogging sociale. E RebelMouse che è un sito molto utile che ha il vantaggio di accorpare in un'unica pagina tutti i nostri social network. Quindi nell'ipotesi che noi si abbia un account Facebook, Twitter o molti altri, RebelMouse una volta scritte le credenziali di accesso riassume in un'unica pagina tutti i nostri contenuti presenti nei social. Quindi per chi ci segue è un modo estremamente più semplice di tenere presente il flusso di informazioni che transita per i nostri social. Per questo corso sono necessarie 6-9 ore e per un numero di incontri che varia da 3 a 4.